Una delle cose che in assoluto ci aiuta di più a migliorare le nostre fotografie è guardare le fotografie degli altri. Ecco perché nel corso di questo video andremo a esaminare insieme le fotografie di uno di voi che me le ha mandate e quindi sì signori stiamo riaprendo il formati qui critico le vostre fotografie ma ci saranno delle regole particolari che vi andrò a raccontare verso la fine del video. Prima andiamo a esaminare le foto che abbiamo oggi poi parliamo dei prossimi contenuti e di quelli di voi che si vorranno candidare. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare mi occupo di fotografia nel corso del video di oggi facciamo una fotocritica vi ricordo per quelli di voi che non fossero già iscritti al canale che potete farlo immediatamente cliccando il bottone qui sotto quelli di voi che si iscriveranno subito avranno ovviamente la precedenza se vorranno farsi criticare le fotografie in prossimi contenuti tenete conto che siete in tanti quindi potrebbe volerci veramente tanto tempo e anzi io ogni tanto lo chiudo e lo riapro questo format perché non sempre ho tempo di stargli dietro visto che il mio lavoro non è questo ma faccio anche altro per cui è un format un po' variabile purtroppo qualcuno potrebbe finire in coda ma detto questo noi adesso lanciamoci all'interno del mio computer e andiamo a vedere che fotografie ci hanno sottoposto quest'oggi cominciamo col dire che abbiamo un indizio importante perché l'album si chiama Promo Dangerous Virgin Madonna Tribute quindi io già da questo intuisco che sarà un tributo a Madonna nel periodo di Like a Virgin periodo che ricordo perché insomma più o meno l'ho vista quella scena pop andiamo a vedere la prima immagine e io credo che questa sia solo una reference della modella perché mi sembra diversa da tutte le altre potrebbe anche essere stata fatta in un altro momento noi qui abbiamo come potete vedere abbiamo le info su uno dei lati e questo ci aiuta perché così vediamo con cosa è stata scattata e con che parametri e io già qui vedo che tra questa foto che credo sia reference e la prima dello shooting vero è proprio cambiano i metadati quindi credo proprio che questa sia solo una reference per quanto riguarda la modella andiamo a vedere questa prima immagine che non mi dispiace il trattamento della luce non mi dispiace è una luce che come vedete lascia l'ombra sotto il naso abbastanza gradevole abbastanza paramount quindi ci sta anche se a me qui sembra di riscontrare andiamo a zoomare per avere una conferma a me qui sembra di vedere un po' di dettaglio bruciato nelle alte luci del viso questo in teoria potrebbe non essere quello che vogliamo perché secondo me c'è un po' troppa luce sulle parti chiare dell'incarnato questo sicuramente è dovuto al fatto che si è dovuto fare una scelta si è dovuto scegliere se esporre correttamente l'incarnato o le parti dell'abito che sono nere o vabbè lo sfondo non lo tiro neanche in ballo essendo più lontano però secondo me qui si è fatta una media non sbagliata a mio avviso perché esporre correttamente quelle parti di incarnato magari avrebbe voluto dire avere un abito che poi si perdeva che diventava troppo scuro quindi la via di mezzo secondo me è corretta diciamo che si poteva forse gestire un po' meglio e aggiungere della luce magari una luce da un'altra direzione avrebbe potuto portare fuori i dettagli dell'abito lasciando però l'esposizione un pochino più indietro sull'incarnato per quanto riguarda la composizione e la posa secondo me questa foto funziona abbastanza avrei voluto vedere la mano non tagliata quindi la mano sinistra che va verso il basso abbiamo le dita tagliate questa è una cosa che a me non fa mai impazzire io l'avrei tagliata o più su quindi o a metà dell'avambraccio oppure avrei preso le dita per intero poca cosa se stiamo guardando le dita vuol dire che c'è un problema con l'immagine devo capire bene come si comporta questa modella per quanto riguarda l'espressione una cosa su cui faremo particolarmente attenzione oggi è l'espressione della persona e ve ne parlerò nel corso del video ma adesso andiamo avanti vediamo questa seconda immagine e qui per quanto riguarda l'espressione comincio ad addentrarmi per quanto riguarda le cose tecniche siamo è lo stesso set quindi sono esattamente le stesse di prima a me qui sembra di vedere in realtà questa è meglio questa è meglio per quanto riguarda l'esposizione qui abbiamo una bella luce sulle labbra sul rossetto che mettono in risalto abbiamo questi occhi che guardano di lato secondo me un po' troppo ok perché buona norma sarebbe quando si fa ritratto di lasciare un po' di bianco anche sul lato corto dell'occhio quindi far guardare la persona così tanto da un lato può essere quello che vogliamo se vogliamo dare un'idea di stupore piuttosto che altre emozioni che adesso non vi sto qui a dire però per un ritratto classico è un po' tanto per quanto riguarda il resto allora io capisco chiaramente l'intento quindi l'intento è quello di inquadrare la croce la croce che quasi diventa protagonista e che va a incorniciare il nostro soggetto globalmente direi che la foto ci sta a croce mi sembra abbastanza dritta diciamo che in quest'ambito non capisco bene quanto deve esserci la fisicità della modella in questo scatto e quanto invece no perché questo braccio destro che va a creare giustamente un triangolo in questo modo forse in quest'ottica quasi un po' mi distrae io forse l'avrei tagliata più su in maniera tale da escluderla un po' la fisicità in questo tipo di scatto ovviamente queste sono mie considerazioni personali che non tengono conto né dell'obiettivo dello shooting né di eventuali richieste del committente se c'era un committente io vi dico proprio quello che mi viene in mente ora qui possiamo secondo me cominciare a parlare dell'espressione ovvero e mi sono preso una reference apposta per farvi questo discorso qui intanto vediamo che la croce non è più così centrata come prima un braccio della croce è addirittura tagliato questo mi domando se sia voluto ragionato oppure se sia venuto un po' così perché questo io non so se l'avrei fatto perché così questa croce io non la capisco più potrebbe essere un'altra cosa quindi potrebbe essere problematico questo un'altra cosa che mi verrebbe da dire è mi pare di vedere nei metadati se sono corretti che questa immagine è stata scattata f1.8 a questo punto io forse se la croce doveva essere non più così tanto protagonista io avrei allontanato un po' la mia modella dalla croce in modo da avere la croce un po' più sfocata sullo sfondo in questo modo sarebbe stata meno presente ma si sarebbe comunque vista e sarebbe rientrata per intero nel fotogramma butto lì eh arriviamo a parlare dell'espressione e io per questo vi dico che mi sono preso una reference perché sono andato a cercare madonna like a virgin e i risultati che ho tirato fuori sono questo e questo ora sono sono foto ovviamente datate però vi rendete conto che ovviamente mi rendo conto di quello che sto dicendo è chiedere a una modella io non lo so magari non professionista chiedere a una modella fammi madonna non è facile perché ragazzi madonna era madonna cioè madonna era così non stava facendo così quindi per madonna era facile essere così per una modella non professionista secondo me non è altrettanto facile in questo caso secondo me questa espressione non so quanto ci stia e vi dico perché madonna è arrogante è sfrontata madonna ha uno sguardo che ti sfida a me questo sguardo sembra più uno sguardo contemplante adorante madonna non era così in questo senso e cito questo argomento mi rendo conto che non è prettamente fotografico è più sulla direzione però mi sento di tirare in ballo questo argomento perché ragazzi sto vedendo di quelle foto sui social quindi colgo la palla al balzo per parlarvi anche di questo argomento sto vedendo delle foto sui social dove ci sono ste povere ragazze che fanno delle fotografie strane in posizioni strane che i fotografi gli hanno detto mettiti tutta così e queste qui si sono messe in quella posizione ma hanno una faccia che è una via di mezzo tra il disgusto e la paura ora se noi vogliamo far fare delle cose strane a una ragazza bisogna prima metterla su agio perché altrimenti dalla loro espressione e non è questo il caso qui è una questione di scelta ma in altri casi si vede dalla loro espressione che la ragazza sta pensando ma cosa mi sono messa a fare ma chi è questo deficiente che mi sta facendo fare sta roba cretina si vede ce l'hanno scritto in faccia ripeto non è questo il caso questa qui è una foto in cui secondo me la modella ha un'espressione adorante sta guardando in alto verso la luce a me questo sembra il contrario di Madonna cioè Madonna era blasfema Madonna era provocante questa a me sembra adorante e quindi ci vedo un contrasto voluto non voluto questo non lo sappiamo magari l'autore commenterà e magari avremo la risposta io vi porto solo le mie riflessioni per giusto sbagliate che possano essere andiamo avanti e qui torniamo su una foto con un taglio più classico devo dire non mi dispiace in questo caso e qui come potete vedere le mani sono tutte e due incluse quindi forse allora la prima secondo me era la migliore che abbiamo visto finora questa qui se la gioca perché abbiamo le mani per intero qui mi sembra di vedere ancora un po' troppa luce sul volto secondo me è un po' troppo qui secondo me c'è quasi perdita di dettaglio di nuovo mi rendo conto che è un balance tra le parti nere e le parti chiare quindi per avere l'esposizione corretta sulle parti nere uno dice faccio un po' di compromesso anche sulle parti chiare per tirare fuori una cosa che globalmente vada bene secondo me questa cosa può essere gestita meglio perché per esempio qui abbiamo io non riesco a capire bene con che tipo di fonte luminosa abbiamo a che fare però da quello che vedo nell'iride potrebbe essere un softbox di medie dimensioni se noi qui usavamo un softbox più grande aumentavamo le dimensioni avevamo una luce più diffusa e questo poteva già da solo risolvere il problema andiamo avanti e questa questa mi piace di più come posa rispetto rispetto a quella precedente questa come posa mi piace di più quella mano sul fianco che crea quel triangolo mi piace di più mi piace anche il fatto che si vede un pezzettino di pizzo sul vestito più in basso c'è sempre questa espressione che guarda verso la luce e che a me sembra adorante più che provocante e secondo me questo non è madonna cioè questo te lo fa diventare un'altra cosa qui allora io non conosco la persona quindi non riesco a interpretare correttamente le sue espressioni questa a me non convince perché qui a me lei sembra meditativa ma non meditativa perché le è stato detto fammi la meditativa mi sembra meditativa perché mi sembra che stia pensando ma starò venendo bene ma che cosa stiamo facendo ma siamo sicuri che sono mi sembra che stia che abbia dei pensieri suoi per davvero il che può essere voluto però in questo caso di nuovo in un tributo a madonna un po' me l'allontana avete visto le foto che abbiamo guardato prima di madonna cioè madonna ti sfida madonna ti guarda madonna sembra che ti stia dicendo vediamo chi distoglie lo sguardo per primo vediamo se hai coraggio di sostenere i miei occhi invece in questo caso sta guardando la luce mi sembra una cosa che le conferisce una sorta di sacralità in un modo diverso rispetto a come l'aveva intesa madonna e qui abbiamo in qualche modo la conferma madonna se avesse poi l'avrà anche fatto mi ricordo tutti i videoclipi di madonna se madonna congiunge le mani non lo fa quasi mai con questa reverenza lo fa quasi sempre con un misto di sfida e blasfemia perché madonna era fatta così il suo personaggio era fatto così quindi questo scatto personalmente non mi dispiace la croce è bella centrata abbiamo sempre un pochino di perdita di dettaglio nelle altissime luci però poco poco di nuovo ci sono questi occhi che secondo me guardano troppo da una parte io avrei fatto una via di mezzo in modo da lasciare un po' di bianco anche nel nel lato morto dell'occhio globalmente non è non è una cattiva foto funziona mi piace anche il fatto che non abbia più il cappuccio la preferisco con i capelli liberi diciamo che secondo me questa globalmente funziona però c'ha sempre questo aspetto che guarda verso l'alto guarda verso la luce secondo me questo madonna non lo faceva con quest'intenzione qui cambiamo completamente qui abbiamo un set diverso con un leopardato con un occhiale guardate nuovamente l'espressione e voglio farvi rivedere questa perché secondo me qui possono esserci delle affinità nel senso che vedete lo sguardo di madonna e vedete questo sguardo secondo me in questo caso si percepisce che c'è magari un tentativo di andare in quella direzione solo che come detto prima madonna è madonna e quindi madonna non fa fatica a farlo noi comuni mortali facciamo fatica a farlo e infatti io qui ci vedo il tentativo lodevole però ci vedo anche una puntina di dubbio cioè lo faccio però intimamente sto pensando ma sta venendo bene perché io so di non essere madonna e quindi il dubbio mi viene e questo dubbio io un pochino qui lo vedo magari mi sbaglio quindi chiedo nuovamente se ci sono delucidazioni chiedo all'autore perché poi questa è la mia impressione qui ci vedo un pelino di dubbio e in questo caso io tenderei a fare lo magari è già è anche stato fatto e magari sono state fatte delle prove e questa è la migliore della serie però in questi casi io tenderei a dire facciamo una prova rassicuro la persona le dico che sta venendo bene e la rifacciamo perché questo le dà sicurezza e magari toglie quel pelino di dubbio dallo sguardo qui abbiamo degli indizi importanti perché io qui nel riflesso degli occhiali vedo che sono due le luci che stiamo usando e quindi vedo che probabilmente c'è un octabox in alto e c'è invece un bank quadrato in basso e questa foto io la vedo forse un po' troppo vicina fatemi vedere i metadati dunque stiamo scattando con un 35 mm che quindi diventa un su Nikon diventa un 40 qualcosa diciamo che una foto come questa scattata con questa lunghezza focale da questa distanza vale anche un po' per la precedente io la vedo un po' claustrofobica nel senso che un'ottica del genere io la vedrei bene per dare un po' di contesto dietro nel momento in cui questo contesto non c'è perché siamo in una situazione di sfondo pieno un'ottica di questo tipo che ti fa avvicinare quindi ti dà un po' di distorsione un po' di contesto però poi ti sega fuori tutto il soggetto può essere intenzionale però a me dà un po' di senso di costrizione come se perché siccome è una visione molto vicina a quella veramente dell'occhio umano mi sembra di essere molto vicino a una persona in uno spazio ristretto e questo mi dà una sensazione un po' claustrofobica se noi l'avessimo scattata questa stessa immagine con un equivalente di un 80 mm 85 mm da più indietro sarebbe stata più ariosa questa è una considerazione magari era voluto questo effetto qui stessa cosa io non sono tanto fan di immagini di questo tipo ma vi dico perché perché in questa immagine per me la persona è quasi come se non ci fosse cioè non sta guardando in macchina la vedo di profilo non vedo gli occhi non vedo quasi nulla della fisicità se non una mano che però è coperta cioè faccio faccio fatica a entrare in sintonia con questa immagine perché è come se la persona fosse nascosta e questo mi mi lascia è come se mi lasciasse fuori mi lascia fuori da questa cosa quindi questa immagine può essere integrata in uno shooting ma secondo me difficilmente funziona da sola questa funziona molto molto meglio e di questo secondo set finora è la migliore che abbiamo visto c'è un accenno di sorriso ci sono entrambe le braccia c'è un pochino più di aria perché questi triangoli composti dalle braccia ci aiutano il soggetto sta guardando in camera ed è più sicura lei adesso rispetto alla prima foto che abbiamo visto a me sembra più sicura ne abbiamo fatte un po' si è tranquillizzata ha visto che comunque bene o male magari ha guardato qualcosa a monitor non è scontenta di quello che sta venendo fuori e quindi è più tranquilla io percepisco questa cosa una cosa su cui secondo me qui si sarebbe dovuto lavorare è che io vedo più luce sull'area del petto dove c'è il crocifisso piuttosto che sul viso questo è dovuto in gran parte al fatto che ci sono gli occhiali però secondo me c'è un'area di illuminazione troppo forte sul petto che ti richiama l'attenzione lì mentre invece l'attenzione secondo me dovrebbe comunque essere sugli occhi qui altra immagine che ci dà degli indizi perché qui vediamo che effettivamente abbiamo un bank quadrato in basso e abbiamo un ombrello secondo me a questo punto questo è un ombrello con uno speed light che adesso lo vedo abbastanza bene nel riflesso nell'ottica questa foto vi dico non mi convince al di là del fatto che mi sembra lievemente fuori fuoco forse si è spostato il fuoco ed è finito sulla lente dell'occhiale la vedo meno nitida rispetto alle altre e ah no aspettate aspettate stava caricando come non detto stava caricando no no è a fuoco e non mi convince tantissimo anche questa perché di nuovo è come se il soggetto io non lo percepisco qui cioè occhiali espressione sì un mezzo sorriso ma non capisco se sta ridendo solo con la bocca o anche con gli occhi questa espressione come a dire stop però faccio fatica a integrarla all'interno di questo set quindi magari ha a che fare con qualche scena di qualche videoclip ma non riesco a focalizzarla bene ecco questa mi piace questa è un po' meditativa un po' sfidante volendo anche magari perché la persona prende coraggio prende sicurezza durante lo shooting questa mi piace di più questa posa con questa con questo occhio interrogativo mi convince di più di quelle viste in precedenza c'è un po' tanta aria sopra io sarei andato avrei tolto un po' di aria da sopra avrei preso magari i gomiti per intero e comunque vale sempre il discorso fatto prima con una lunghezza focale di questo tipo che è sempre un 35 mm quindi siamo nell'ambito di diventa praticamente un 40-50 secondo me è quasi un po' catastrofobico fare un ritratto da così vicino con un'ottica come questa personalmente preferisco di gran lunga un'ottica più lunga e stare più lontano perché mi dà una sensazione diversa meno appiccicata meno claustrofobica parere mio assolutamente personale andiamo su quest'altra che allora non mi fa impazzire il riflesso sugli occhiali che però possiamo intervenire fino a una certa invece il resto mi piace perché in questo caso abbiamo una persona che sì è parzialmente assente perché gli occhi sono parzialmente coperti però mi sembra di intravederli e il feeling che mi restituiscono va bene poi con questo look che si rifà appunto a quegli stile e mi direi che questa funziona abbastanza la luce mi sembra meglio che nelle altre perché quando lei guarda su la luce è distribuita meglio quando guarda giù c'è il ciuffo che le taglia un po' di luce non mi dispiace potrebbe molte di quelle che abbiamo visto potrebbero funzionare come copertina di un disco poi la foto magari sulle copertine dei dischi non è perfetta ma poi con il nome dell'artista il titolo magari poi funzionano acquisiscono valore anche perché sono un po' imperfette perché catturano un momento e un modo di essere dell'artista quindi a seconda di come vengono usate poi possono funzionare benissimo e questa ragazzi era l'ultima immagine per cui noi adesso facciamo una cosa andiamo a riguardarci tutto l'album vedete che abbiamo abbiamo due serie abbiamo una serie diciamo con la con la croce io apprezzo anche l'inventiva per essersi inventati questo backdrop con questa croce che penso sia stato fatto apposta per l'occasione diciamo che qui secondo me cose su cui lavorare sono secondo me il taglio verticale funzionava molto meglio molto meglio il taglio verticale su questo set perché col taglio verticale per prendere la persona stai un pelino più indietro non vai più così vicino non fai super close up facendo un orizzontale in cui prendi tanto sfondo e magari le braccia un gomito se ha il braccio alzato ma invece se tu vai indietro e la fai verticale sapete che io non amo particolarmente il verticale ma nel ritratto ci sta nel ritratto è la cosa sua secondo me quelle che abbiamo visto all'inizio fatte in verticale funzionavano molto meglio di quelle viste dopo in orizzontale un pelo più lontano un pelo più di aria intorno ritagliabili dopo per ricavare una sezione quadrata per fare una copertina di un disco finto ovviamente perché questa ragazza magari non è una cantante magari è solo una modella però secondo me le verticali funzionavano di più globalmente ci sta secondo me cose su cui lavorare sono gestire meglio l'illuminazione nel senso di verificare meglio che il rapporto tra la luce principale e la luce secondaria sia bilanciato in modo da non avere zone di perdita di dettaglio nelle alte luci che è un peccato ma questo è dovuto in gran parte secondo me al fatto che veniva utilizzato uno speedlight con un ombrello traslucido e questo è un modificatore che io non amo particolarmente io preferisco il softbox con la griglia anido d'ape o con altri tipi di griglia perché dirigono meglio la luce e riesco ad avere più controllo sulla cosa si tratta di comprare roba magari mi rendo conto che non tutti abbiamo voglia di farlo spesso facciamo ci dedichiamo al nostro hobby con quello che abbiamo e va benissimo così e altra cosa su cui lavorare secondo me le pose copiamo le pose se stiamo facendo un tributo a madonna copiamo le pose di madonna così non dobbiamo inventarci cose che poi magari non funzionano almeno a mio parere alcune cose non funzionano benissimo perché magari la modella non è una professionista e quindi non ha tante pose nel suo carnet noi magari non siamo e io sono il primo ragazzi io mi ci metto per primo io non so mettere in posa la gente perché io non lavoro con le modelle quindi io non so mettere in posa bene una persona le poche volte mi è capitato ho lavorato con persone che sapevano mettersi in posa da sole e me la sono cavata così ma io non sono bravo a mettere in posa la gente anche perché dobbiamo considerare che la persona ritratta dovrebbe fare quello che le viene spontaneo se noi cominciamo a dirle fai questo fai quello quella probabilmente avrà sempre dipinto sul volto quell'espressione di dubbio come a dire ma cosa mi sta facendo fare ma cosa viene fuori ma vengo bene sembro una pagliaccia sembra una roba ridicola se invece noi lasciamo che la persona si interfacci naturalmente con l'obiettivo portando fuori delle pose che già conosce è meglio se guardiamo insieme delle pose dell'artista di riferimento quindi in questo caso di madonna le guardiamo insieme alla nostra modella e decidiamo insieme guarda questa te la senti di farla la facciamo uguale a lei così lei sa già come viene sa già cosa deve imitare perché ha un modello di riferimento potenzialmente si può lavorare in questa direzione per far venire fuori qualcosa di più convinto tenete conto poi che per quanto riguarda madonna cioè lei aveva delle luci molto fashion a volte anche dure quindi luce dura tagliente secondo me una cosa che si sarebbe potuto provare qui era togliere i modificatori e usare la luce dura sparare la luce dura una luce fashion una luce tagliente con un'ombra affilata una bella luce farfalla con un'ombra paramount affilata sotto il mento e sotto il naso io avrei provato qualcosa del genere e qualcosa di più aggressivo per quanto riguarda le espressioni e la posa per avvicinarsi di più all'aggressività al magnetismo che aveva comunque madonna mi rendo conto che non è facile perché non è facile chiedere a una persona fammi madonna non è facile per niente però diciamo queste sono le cose su cui secondo me si sarebbe potuto andare a lavorare per un risultato che poi magari non era quello desiderato quindi questa è solo la mia idea a questo punto però amici vi do qualche delucidazione per quanto riguarda il prosieguo di questo format io accetto candidature per questo format ma vi chiedo di fare un album su su qualche sito di archiviazione come può essere in questo caso è google photos oppure potete usare amazon photos oppure potete usare flicker vi sconsiglio di mandarmi link che scadono perché poi io spesso sono fuori e non riesco a scaricare mi mandate un link permanente una cartella di drive una cartella di dropbox in maniera tale che poi ci sentiamo io prendo contatto vi scrivo vi dico allora mi dai il permesso di fare ok ti do il permesso e allora io esamino la cartella però voglio una piattaforma dove poter vedere le foto come abbiamo visto oggi per poter vedere le foto in risoluzione buona perché su instagram si vedono piccole se me le mandate in chat si vedono piccole poi vedete tutti male da casa quando le commento quindi voglio che me le mettiate su una piattaforma dove le posso vedere bene e vi chiedo di mettere un numero di foto tra le 10 e le 20 non di più perché sennò questi video già sono lunghissimi diventano troppo lunghi quindi link permanente che io posso aprire senza bisogno di connettermi di loggarmi a niente e fotografie in alta risoluzione e tra le 5 le 15 5 10 13 quello che vuole no 13 no che alcuni magari sono superstizioni insomma un numero di foto congruo per poter fare un video in cui le commentiamo insieme ma senza che diventi infinito e ne farò uno per volta perché sennò diventano video di 50 minuti e non va bene signori adesso a questo punto aspetto le vostre considerazioni fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate a seconda di quelli che mi commenteranno io risponderò con degli shorts verticali piuttosto che con dei commenti direttamente qui sotto per cui vi invito anche a iscrivervi per le candidature scrivetemi dove volete non usate la mail perché la mail io la uso solo per lavoro quindi direi o commento qui sotto oppure Instagram probabilmente la cosa migliore è Instagram lo usiamo per quello prima o poi questo format lo richiudo perché a un bel momento diventerete così tanti che non riuscirò più a stare dietro allora lo richiudo e finisco quelli che ho da fare e poi ne riparliamo più avanti detto questo io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me vi do appuntamento al prossimo video e buona luce a tutti